Buongiorno. Spero di essere collegato. Buongiorno, io mi chiamo Giancarlo Viola e lavoro in GAR. In GAR mi sono sempre occupato di reti, della componente a pacchetto della rete. Ultimamente mi sto occupando di progettazione di reti di data center. Oggi, in questo corso, parleremo di come si è evoluta la componente di rete all'interno dei data center. Partiremo quindi dalla descrizione del modello tradizionale, l'Ethernet Fabric, che è stato sostituito in questi ultimi anni da un modello di rete chiamato IP Fabric. Dopo questa parte iniziale vi propongo quello che è un esercizio, cioè andiamo a progettare una rete di data center. Toccheremo quindi tutta una serie di aspetti che normalmente chi progetta una rete di data center si troverà a dover affrontare. Nell'ultima parte del corso, invece, faremo una sessione di troubleshooting e lo faremo sulla rete data center GAR di produzione. Non sarà una sessione live. Quello che vi mostrerò è l'output di alcuni comandi show che ho catturato e incollato sulle slide. Il corso è diviso, come potete vedere dall'indice, in due moduli. Oggi faremo parte dell'esercizio di design. La prossima volta, venerdì, completeremo l'esercizio di design e faremo la sessione di troubleshooting. Le domande, alla fine di ciascuna sessione ci sarà la possibilità di fare delle domande. Per fare le domande bisogna collegarsi sul sito menti.com e utilizzare il codice 45256942. So che dovrebbe scorrere costantemente questo codice, quindi oppure ve lo segnate. Una cortesia, se la domanda che vi viene è relativa a una slide specifica, vi chiedo la cortesia di indicarle in maniera tale che la recupero e parliamo su un disegno, su quella che è la slide che ha generato la domanda. Ok, direi che possiamo cominciare. Allora, la struttura tipica di un data center tradizionale comprende, come si vede dalla figura, una componente di calcolo e storage e una componente di trasporto, che sostanzialmente è la rete. Vorrei precisare una cosa, che in questo corso verranno citati spesso gli elementi IT di un data center, quindi la CPU, quindi i server, storage, le applicazioni, ma vorrei sottolineare che questi non sono gli elementi del tema principale di questo corso. Il tema principale di questo corso è la rete, noi parleremo di rete. Quindi, torniamo all'argomento principale. La rete di un data center a sua volta è divisa in due componenti. C'è la componente TOR, TOR è l'acronimo di Top of the Rack, che serve per aggregare i collegamenti Ethernet di server e di storage. E poi c'è la componente di CORE, che funge sostanzialmente da collante tra i TOR del data center e la rete geografica. La prima evoluzione di questo modello topologico che vede l'apparato CORE come hub tra data center e rete è stata quella dell'adozione di un modello topologico CLOS. La topologia CLOS in letteratura viene anche identificata come Spine-LIF. Cambia quindi la nomenclatura rispetto al caso precedente. I CORE non si chiamano più CORE, ma si chiamano Spine. I Top of the Rack vengono chiamati LIF. Cambia la nomenclatura, ma non cambia il ruolo architetturale degli apparati. Le LIF rimangono sempre gli apparati di aggregazione dei sistemi di calcolo e dello storage. Lo Spine è l'apparato che fa da interconnessione ad alta capacità tra i nodi LIF del data center. Perché una topologia possa essere identificata come CLOS questa deve soddisfare dei requisiti che sono quelli che stanno racchiusi all'interno di questo riguadro. In una topologia CLOS ogni elemento LIF, ogni nodo LIF è collegato a tutti i nodi SPINE della rete, così come ogni nodo SPINE è collegato a tutti i nodi LIF della rete. Tra i nodi SPINE non ci sono collegamenti diretti, così come tra i nodi LIF non ci sono collegamenti diretti. Chiaramente come tutte le cose la topologia presenta dei vantaggi e degli svantaggi. Se decidiamo di adottare nel nostro data center una topologia Ethernet Fabric è bene sapere che ha il pregio di essere semplice e di costare poco. Perché? Allora, è semplice in quanto la topologia, gli apparati integrano poche funzioni. Di fatto si tratta di andare a configurare le VLAN e di conseguenza è anche poco costosa perché un Ethernet switch, un apparato meno funzioni ha e meno costa. Ebbene, sapere però che ci sono anche degli svantaggi nell'adozione di una topologia Ethernet Fabric. Li ho elencati come li potete vedere qui nella slide, ma volevo discutere con voi uno svantaggio in particolare è che la topologia Ethernet Fabric, il modello Ethernet Fabric, è un modello che non utilizza in maniera ottimale le risorse della Fabric. È questo il ragione di Spanning Tree, ma andiamo a vederlo. Quello che normalmente uno si aspetta da una rete fatta in questa maniera è, per esempio, nel caso dell'esempio facciamo un esempio che tutte le LIF sono collegate con link a 100 giga al resto della rete uno si aspetta di poter utilizzare, da un punto di vista dei server, la massima capacità che la rete offre che in questo caso è 400 gigabit. Però ricordiamo pure che siamo in un dominio di livello 2 i domini di livello 2 soffrono i loop. Come voi sapete la frame Ethernet non ha il meccanismo che è stato implementato all'interno di un pacchetto IP che è il time to leave per cui in linea di principio una frame Ethernet, se nella rete è presente un loop, potrebbe girare all'infinito e in una rete del genere di loop ce ne stanno. Per esempio, vediamo, uno potrebbe essere questo qua per esempio. Questo è un loop, ma insieme a questo ce ne stanno altri. Allora, che cosa si fa? Cosa richiede una rete Ethernet Fabric? Richiede l'abilitazione di Spanning Tree. Spanning Tree è un protocollo che interrompe i loop di livello 2. Come opera Spanning Tree? Spanning Tree fondamentalmente che cosa fa? cambia lo stato dei link da forwarding a blocking in maniera tale che vengono interrotti i loop. Allora, cosa succede? Che un link in stato di forwarding è un link che porta traffico. Un link in stato di blocking è un link che porta solo esclusivamente la segnalazione Spanning Tree. Quindi, di fatto, nel momento in cui accendiamo Spanning Tree, sì, la rete funziona, però quello che succede è che parte dei link di questa rete non vengono utilizzati proprio in ragione del fatto che altrimenti si verrebbero a creare dei loop. Quindi, quello che di fatto succede è che i sistemi di calcolo, lo storage, tutto ciò che è la component IT, sperimenta una banda ridotta rispetto a quello che potrebbe essere sviluppata grazie al fatto che i link vengono messi in blocking. Allora, a questo punto ci si spone una domanda. E la domanda è, ma una rete è fatta in questa maniera? È ancora adeguata a soddisfare le esigenze delle applicazioni? Chiaramente la risposta è no. Perché? Perché, allora, in un data center tradizionale, quando le applicazioni ancora erano sviluppate in maniera monolitica, tutto il codice girava all'interno di un calcolatore elettronico, il traffico fondamentalmente era quello dell'utente che accedeva all'applicazione e usufruiva dei servizi. Quindi la grossa componente di traffico che c'era nei data center tradizionali era nord-sud, cioè di utenti che accedevano alle applicazioni. Pochi flussi erano quelli di applicazioni che parlavano tra di loro. Poi è arrivata la virtualizzazione, è arrivata la containerizzazione che ha ulteriormente smembrato le applicazioni. Queste nuove tecnologie non hanno fatto altro che far crescere in maniera importante quello che è il traffico che rimbalza all'interno di un data center. Sempre per fare l'esempio di prima, se prima l'utente accedeva all'applicazione e l'applicazione gli rispondeva, ora magari l'utente accede all'applicazione che però magari ha bisogno di un sistema di autenticazione che è fatto con un container docker che sta qua sopra che però magari va a leggere i dati da un database che sta su un altro server è chiaro, si capisce bene come da questo modello in cui tutto il traffico entrava e usciva dal data center si passa a questo modello in cui il traffico viene rimbalzato all'interno del data center. C'è stato un documento interessante di Facebook in cui hanno pubblicato delle misurazioni che hanno fatto nel loro data center e loro hanno dimostrato che la quantità di traffico est-ovest quindi quello che rimbalza all'interno del data center è di circa mille volte la quantità di traffico nord-sud cioè il traffico che entra ed esce dal data center noi chiaramente in gara non siamo Facebook non abbiamo i numeri di Facebook per cui quello che abbiamo sperimentato è sì questa tendenza ma con valori decisamente minori dunque ok noi abbiamo quindi capito che la Ethernet Fabric non va più bene quindi che soluzione adottiamo? verso quale modello andiamo? se dobbiamo abbandonare un modello di rete che trasporta Ethernet è sempre abbastanza evidente che dobbiamo andare verso un modello che parla IP nulla cambia a livello topologico nulla cambia a livello di ruoli ricoperti dagli apparati le LIF rimangono sempre gli apparati di aggregazione gli SPINE rimangono sempre gli apparati di interconnessione ad alta capacità ciò che cambia è la tipologia degli apparati siamo passati quindi passiamo da una rete fatta di switch quindi a un dominio di livello 2 a una rete fatta di router quindi un dominio di livello IP di fatto i vantaggi di una Fabric derivano dai vantaggi legati all'adozione dei protocolli di livello 3 per esempio BGP ISIS o SPF implementano supportano nativamente l'utilizzo simultaneo di link equal cost è in una Fabric torno indietro in una Fabric basata su topologia CLOS di link equal cost per esempio tra due LIF ce ne sono ce ne sono per cui ecco per esempio questo è un esempio da un server che è collegato a questa LIF viene visto da questa LIF con due percorsi equivalenti e quindi questo ci porta a concludere che fondamentalmente una Fabric una IP Fabric è un un modello che un modello direte che sfrutta in maniera più efficiente la capacità della rete per contro però c'è da dire che la la Fabric IP è più costosa perché ci sono i router costano più degli switch fondamentalmente ma è più complessa è più complessa perché dobbiamo implementare sulla rete tutta una serie di protocolli di livello 3 è ultimo ma non ultimo richiede una maggiore competenza perché voglio dire l'abilitazione di tutti i protocolli di livello 3 richiede comunque che si abbia competenza su per esempio su BGP sui protocolli IGP e poi vedremo dopo sui VPN e VXLAN dunque è arrivato a questo punto facciamo cerchiamo di tirare le somme sulle differenze tra tra un modello tradizionale Ethernet Fabric e un modello IP Fabric il modello Ethernet Fabric è sicuramente più semplice da configurare a differenza di un modello IP Fabric che è più complesso è anche più costoso l'Ethernet Fabric è meno efficiente come abbiamo visto in termini di utilizzo della banda proprio in ragione del fatto che richiede la presenza del protocollo Spanning Tree IP Fabric invece è più efficiente da un punto di vista della gestione una Ethernet Fabric non richiede grosse competenze di rete a differenza di una IP Fabric che invece essendo essendoci sopra i protocolli di livello 3 richiede una maggiore competenza dal punto di vista del networking ok allora a questo punto cominciamo con l'esercizio di fare un design di una rete IP Fabric gli aspetti che andremo ad affrontare sono la scelta della topologia le caratteristiche e i ruoli che devono avere gli apparati dove andremo a terminare il livello IP dei servizi applicativi qual è il modello di routing che decidiamo di adottare all'interno della Fabric parleremo poi di questi due nuovi protocolli che sono i VPN e VXLAN infine faremo dei cenni sul modello di security cioè il modello di securizzazione delle applicazioni allora cominciamo con il discorso topologico noi facciamo faremo un'assunzione in questo corso che la topologia del nostro data center è una topologia close la topologia fondamentalmente è come colleghiamo gli apparati tra di loro e il dimensionamento dipende da quanto è grosso il data center e quanto è la banda che noi richiediamo alla nostra rete di data center nell'esempio che c'è raffigurato in questo momento nella slide quando andremo a dimensionare la rete di data center dovremmo considerare che in base alla grandezza del data center quindi quanti rec quante leaf noi dobbiamo capire il dimensionamento del numero delle porte da ciascun rec tipicamente per ridondanza all'interno di ciascun rec per ridondanza normalmente vengono posizionati due due apparati leaf quindi il dimensionamento delle porte dello spine deve tener conto del fatto che da ciascun rec partono due collegamenti verso lo spine e quindi il numero delle porte dello spine deve essere adeguato a poter realizzare tutti i collegamenti delle leaf alla stessa maniera quando andremo a scegliere un apparato leaf dobbiamo avere l'accortezza di prendere un apparato che abbia almeno due porte ad alta capacità verso gli spine se a un certo punto decidiamo che il nostro data center debba avere una capacità di banda maggiore quello che possiamo fare è cambiare la tecnologia della porta quindi magari da link a 100 giga link a 40 giga oppure realizzare link multipli dalle leaf agli spine in questo caso il livello di occupazione degli spine cresce quindi dobbiamo tenere conto in fase di scelta del tipo di apparato può capitare però che noi siamo in torno indietro siamo in questo caso e quindi abbiamo dimensionato il rec oppure il data center oppure il data center col tempo è cresciuto e abbiamo saturato le porte dello spine in questo caso l'aumento della capacità si fa introducendo un nuovo elemento spine all'interno dell'architettura all'interno della topologia scusate e quindi da ciascuna leaf si ciò mette un nuovo link e quindi la capacità da in questo caso da 2 passa a 3 ok è chiaro che il filo comune di tutti questi ragionamenti è che comunque non va non cambia la topologia della rete è close in questo caso è close in questo caso è close in questo caso quindi non a parità di topologia ci sono possiamo agire su alcune variabili per poter aumentare la banda o dei nostri collegamenti della banda della nostra della rete del data center ok se per esempio invece il nostro data center è un data center molto grosso e a quel punto possiamo adottare una topologia close a tre livelli dove c'è per esempio data center su possono essere tipo non so delle isole fatte con una topologia close che abbiamo detto che abbiamo discusso nelle slide precedenti e a questa a questo questo modello topologico ci si può aggiungere un ulteriore livello che detto super spine collegato a gli spine delle varie isola in modalità close e che fa da appunto da elemento di raccordo tra i vari data center spassi di monosone sede 1 sede 2 ok dunque per sintetizzare la la topologia cross la topologia cross è una topologia ridondata e questo lo si vede chiaramente dalla figura è una topologia resiliente al guasto multiplo che cosa intendo dire quando parlo di resiliente al guasto multiplo immaginiamo per esempio di avere un sistema di calcolo collegato qua è un sistema di calcolo collegato qua la connettività tra questi due sistemi di calcolo rimane anche a seguito del down di di più di un apparato di rete ok è sufficiente che ci sia almeno un nodo spine funzionante per garantire connettività in questo caso tra lì fu uno la leaf 3 chiaramente non viene meno la connettività ma si riduce la banda di questa connettività e scalabile in termini di porte verso i server questo significa che se dovesse crescere se il data center dovesse crescere dovessimo acquistare nuovi nuovi server a quel punto è sufficiente aggiungere un nodo leaf alla alla topologia e utilizzarlo per collegare le le espansioni questo però a parità di topologia non bisogna cambiare la topologia aggiungiamo solo degli elementi se scopriamo che il nostro data center ha bisogno di una banda est ovest quindi una banda interna superiore quello che possiamo fare è aggiungere o aumentare il la capacità dei singoli link oppure aggiungere come dicevamo prima dei nodi spine questo sempre a parità di di topologia inoltre riguardo alla dimensionamento dei link come abbiamo visto prima la l'adozione dei protocolli di livello 3 fa sì che questi link vengano usati tutti quanti in maniera equa e quindi vuol dire che non c'è necessità di sovradimensionare la capacità dei link quindi possiamo utilizzare un dimensionamento ridotto in ragione del fatto che comunque il traffico si spalma in maniera si distribuisce qui equamente su tutti i link del del data center allora volevo prima di andare avanti soffermarmi su su questo punto sulla resilienza al guasto multiplo qualcuno potrebbe dire ok qual è la probabilità che in un data center ci si possa si possano guastare tutti questi apparati contemporaneamente sono d'accordo con voi se concordiamo sul fatto che la probabilità veramente bassa quindi la topologia la resilienza al guasto multiplo si c'è però è un evento che succede in maniera abbastanza raro ecco quindi però qual è il vero vantaggio se vogliamo il vero vantaggio se secondo me è su una per quanto riguarda l'operatività sulla rete facciamo un esempio ok ok un disegno che non ho che non ho imbrattato ok facciamo questo allora la residenza questo multiplo in una rete del genere il fatto che la connettività tra un sistema di calcolo collegato qua e un sistema di calcolo collegato qua sia garantita anche a seguito di indisponibilità non chiamiamolo guasto indisponibilità degli apparati mi consente con una certa serenità di poter operare ad esempio degli upgrade software spezzando la fabbrica in due pezzi per esempio io posso operare la software di questi apparati ok oppure fare manutenzione su questi apparati senza preoccuparmi di interrompere il servizio perché se io spengo questi questi tre per esempio perché sto facendo un upgrade software comunque il data center continua a funzionare e quindi di fatto è questa la vera il vero vantaggio di una di una topologia fatta in questa maniera quindi torniamo indietro ok benissimo allora abbiamo scelto la nostra topologia abbiamo dimensionata sulla base delle nostre esigenze andiamo a vedere quali sono quali devono essere le caratteristiche degli apparati che andremo utilizzare e che ruolo architetturale fa far rivestire allora prima di parlare di caratteristiche ruoli architetturali volevo introdurre quello che è un concetto perché lo useremo dopo quindi è bene chiarirlo sin da subito è il concetto di rapporto di over subscription il rapporto di over subscription fondamentalmente è un parametro è un parametro che viene stabilito in fase di progetto ed è dato dalla sommatoria della capacità delle interfacce d'accesso diviso la sommatoria della capacità delle delle interfacce di uplink quindi la banda d'accesso diviso la banda in uplink perché dico che è un è un parametro stabilito in fase di progetto perché in base a al quante interfacce il progettista decide di mettere nell'insieme giallo e quante decide di metterle nell'insieme azzurro questo determina quello che il rapporto di over subscription facciamo un esempio e lo faccio con gli apparati che abbiamo le leaf che abbiamo usato nei nostri data center nostri data center abbiamo delle leaf che hanno 48 porte 25 gigabit e queste le le utilizziamo per collegare i server quindi fanno parte dell'insieme azzurro e 8 porta a 100 gigabit che vengono utilizzate per il collegamento con gli spine e quindi nell'insieme giallo nel nostro caso quindi rapporto di over subscription massimo è 1,5 1,5 1,5 che cosa vuol dire vuol dire di fatto che se io ho una capacità di accesso di 1.5 giga io questa questo questi 1.5 giga riesco a a trasferirli ai livelli superiori della rete con una capacità massima di 1.5 di un gigabit questo che cosa cosa di fatto come la possiamo vedere e se noi immaginiamo tipo un imbuto ok il rapporto di over subscription indica la larghezza dell'imbuto cioè più è largo e più diciamo l'apparato potrebbe introdurre delle perdite di pacchetto dovuto al fatto di pacchetti dovuto al fatto che la capacità in uscita è minore di quella che è in ingresso ok quindi capito il che cos'è il rapporto di over subscription andiamo a vedere quali sono gli apparati e le caratteristiche degli che questi devono avere partiamo dagli spine lo spine da un punto di vista del ruolo architettorale è l'apparato che mette in comunicazione le leaf del data center normalmente equipaggiato con porte ad alta capacità ed ha un'elevata capacità di forwarding proprio perché deve fare da raccordo tra le leaf normalmente si dimensiona con una matrice di switching non bloccante cioè quindi con un rapporto di over subscription uno a uno che significa che tanto entra tanto esce lo spine non deve essere causa di packet drop per questioni legate alla banda e dovrà avere un ridotto numero di funzionalità avanzate fondamentalmente un apparato che fa forwarding ad alta capacità non ha non è richiesto per per questo spine a altro fondamentalmente le leaf invece sono differenziate per tipologia di servizio e cosa intendo? intendo che ogni leaf dovrà essere dimensionata e scelta in base a ciò che fondamentalmente ci attaccheremo sopra per esempio le leaf per l'aggregazione della cpu normalmente hanno sono dotate di un'elevata numerosità di porte a un giga 10 giga o 25 giga perché oramai i server hanno quasi tutti una doppia nick e quindi all'interno di un rack ci si possono mettere un certo numero di server per cui l'apparato leaf è un apparato che deve avere un grosso numero di porte a bassa capacità è un ridotto numero di porte ad alta capacità quindi maggiore o uguale a 100 giga perché sono tipicamente le porte che la leaf usa per collegarsi con gli spine da un punto di vista della capacità di forwarding questa deve essere adeguata a quelle che sono le esigenze delle applicazioni così come per esempio la matrice di switching non è non è necessario per esempio per le leaf di collegamento delle cpu una matrice di switching con meglio un rapporto di oversubscription 1 a 1 tipicamente si dimensiona con una 3 cioè per ogni 3 giga sviluppato dai server c'è un giga disponibile su in uplink a differenza dello spine la leaf deve avere un elevato numero di funzionalità avanzata vedremo dopo che la i vari protocolli di vpn vixlan devono essere supportate da principalmente dalle leaf la leaf invece per l'aggregazione dello storage è un apparato appunto dove verranno collegati i collegamenti dello storage anche questo normalmente non ha differenza e deve essere dotato di porte a bassa capacità ok ma non nella stessa numerosità di della della leaf di aggregazione delle cpu perché tipicamente gli storage sono più voluminosi hanno meno porte che anche questo deve essere tipicamente dotato di un ridotto a numerosità di portare ad alta capacità a differenza del della leaf di aggregazione per le cpu quasi si in fase di progetto noi dobbiamo tener conto del fatto che la il rapporto di oversubscription di una leaf che collega lo storage deve essere almeno di uno a uno nel senso che la leaf non deve essere non deve rappresentare un collo di bottiglia per i flussi di traffico che vanno verso lo storage anche questo come la leaf di del caso precedente deve essere dotato di un numero elevato di funzionalità avanzate la border leaf a border leaf che cos'è è l'apparato di attestazione dei punti di uscita cioè attraverso la border leaf il data center vede il modo del mondo esterno riguardo al numero di porte non è necessario è bene che abbia porte a bassa capacità ebbene che abbia porte ad alta capacità non è necessario che che debba essere un apparato con tante porte che tipicamente quello link verso la la rete geografica sono sono pochi ok anche questo perché affinché il data center non sperimenti colli di bottiglia in uscita o in ingresso il rapporto di over subscription ebbene che sia almeno uno a uno c'è tanto arriva dalla rete tanto deve essere for guardato verso il data center e viceversa ok fatto anche la discusso anche la caratteristica e caratteristiche i ruoli degli apparati all'interno della della nostra nel nostro disegno di rete andiamo a vedere dove andare a terminare il livello ip dei servizi applicativi allora che cosa intendo dire con questo normalmente quello che noi abbiamo è la sistema di virtualizzazione faccio sempre non so bmware o per stack all'interno del quale c'è costruiamo creiamo le nostre macchine virtuali normalmente la macchina virtuale che cosa c'ha c'ha un un indirizzo ip e c'ha un default gateway scusate la terminazione del livello ip si intende dove andiamo sulla rete a posizionare il default gateway allora un primo modello un primo una prima ipotesi è questa qua allora intanto lo spine in relazione a quello che il suo ruolo architetturale quindi fa solo transito ip non è l'apparato in cui su cui andiamo a terminare il livello ip delle applicazioni dunque quindi gli apparati su cui andremo ad agire saranno le leaf una prima ipotesi è quella di terminare il livello ip sulle direttamente sulle leaf attraverso un'interfaccia vlan in dual stack ipv4 e ipv6 l'altra ipotesi è invece sempre escludendo lo spine è quella di prendere le determinare i livelli p sulle sulle border leaf questo significa allora prendiamo la il traffico di livello 2 che arriva dalla dai server lo incapsula incapsuliamo e lo trasportiamo in qualche modo verso la border leaf e sulla border leaf configuriamo una interface vlan con la lo stack ipv4 lo stack ipv6 questo è un potrebbe essere un'altra 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 soluzione qual è la fondamentalmente la differenza tra queste due soluzioni che nel caso di terminazione del livello ip sul sulle leaf quello che noi vediamo che un avm che sta nella vlan verde e un avm che sta nella vlan gialla per comunicare comunicano direttamente sullo switch l'inter vlan routing lo fa la leaf e quindi è traffico locale quello che invece succede nel secondo caso è che la il traffico della della vlan viene preso trasportato livello 2 sul sulla border leaf qui avviene il meccanismo di l'intervlan routing nel momento in cui la il pacchetto arriva nella vlan gialla viene ritrasformato in un pacchetto una frame ethernet e riportato indietro quindi che cosa qual è lo svantaggio di di questo modello svantaggio che la per far parlare due macchine virtuali due host che stanno subito in differenti sullo stesso switch bisogna arrivare fino trasportare il traffico fino alla border leaf e quindi c'è un maggior impegno della banda della fabric uno a questo punto potrebbe dire vabbè uso questo qua perché è più efficiente si la risposta di fatto si però se noi consideriamo consideriamo pure questo fatto che se abbiamo un'applicazione che fondamentalmente produce traffico solo verso l'esterno della rete e che non produce traffico verso le altre applicazioni che stanno all'interno del data center a quel punto questo modello o questo modello possiamo dire che sono abbastanza equivalenti se io dal verde vado solo verso l'esterno del data center e non vado mai verso il giallo a quel punto o lo faccio in questa maniera o lo faccio in questa maniera comunque la link della fabric sono impegnate della stessa maniera quindi il tutto dipende dalla dalla tipo dalla esigenza che uno ha dalla caratteristica dell'applicazione e in base a questo uno sceglie dove andare a posizionare il livello ip della il default gateway delle varie villane ciò non toglie che per esempio ci potrebbero esserci delle soluzioni ibride dove parte delle delle villan terminano direttamente sulla leaf e parte terminano sulla sulla border leaf questo è la scelta del progettista ecco dunque abbiamo detto che la è il la fabbrica ip è una rete di livello 3 e che quindi richiede la l'abilitazione dei protocolli di routing quello che noi possiamo fare è scegliere tra questi tre modelli un modello di routing basato solo su un protocollo igp un modello di routing basato solo sul protocollo igp è un modello misto allora andiamo a vedere i vari casi i pro e i contro dei vari casi se noi adottiamo per la nostra fabbrica un solo protocollo igp che potrebbe essere per esempio ospf oppure is is e lo usiamo per trasportare tutte le tipologie di di network come vantaggio che cosa quali 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 vantaggi trarremmo da questo da questa scelta che comunque il i protocolli igp nativamente implementano i i meccanismi di impegno dei link equal cost quindi siamo sicuri che il traffico tra due leaf o quindi tra due server è spalmato e ruotato in maniera come dire equamente distribuita su tutti i link dalla l'if a alla l'if b ok un non richiede una configurazione manuale chi di voi ha configurato sbf sa che con basta abilitare il protocollo dire su quale interfaccia questo protocollo deve agire e il router di in maniera dinamica stabilisce quelle che tutte tutte le adiacenze è molto rapido nel senso che i tempi di convergenza di un protocollo igp sono dell'ordine dei millisecondi e per contro però non non scala nel caso di grossi grossi data center ricordiamo che per esempio ospf deve mantenere ogni apparato che parla ospf deve mantenere in memoria la l'intera topologia della rete e ad ogni perturbazione e per perturbazione intendo un link che va giù una servizio navi lan che nasce navi lan che muore e ogni router della rete fa partire un ricalcolo di extra della 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 nuova topologia questo significa che se noi abbiamo un data center grosso quindi con tanti apparati la probabilità che ci possano essere delle perturbazioni elevate quindi significa che ogni router frequentemente fa partire la ricalcolo di extra e questo significa che ogni che sono e sono cicli di cpu della della che vengono impegnati per fare questo tipo di lavoro va perché per come per qual è la in base vista la potenza dei processori di calcolo che ora sono montati sulle sugli apparati di rete questo potrebbe non essere più un grosso una grossa limitazione però è bene è bene è bene ricordarsi e inoltre vedremo dopo lo vedremo dopo per la l'utilizzo delle funzionalità i vpn comunque un protocollo igp ci va un protocollo il protocollo bgp ci va scusate quindi o decidiamo di implementare una rete e non usufruire delle funzionalità di vpn oppure comunque bisogna prevedere anche un protocollo il protocollo bgp lo vedremo vedremo dopo la discorso e vpn e come si mette in relazione con bgp l'altro modello potrebbe essere utilizziamo bgp ok allora il vantaggio qual è il vantaggio che ci abbiamo un unico protocollo di routing sia per quanto riguarda la una cosa che non ho detto di qua che comunque bgp non serve solo per la funzionalità i vpn ma serve per l'interfacciamento con la rete geografica a meno di non trovare un service provider gar non lo fa di come dire stabilire scambiare messaggi di routing con un protocollo igp con una rete di un data center serve sulle border leaf serve serve il protocollo bgp ok allora bgp quindi bgp che cosa garantisce garantisce usiamo un unico protocollo quindi non abbiamo bisogno di di altro e è un protocollo che scala scala per data center di grosse dimensioni e con bgp è molto più agevole maneggiare le manipolare le 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 gli annunci verso la rete geografica però per contro bgp è un po più complicato da da configurare perché se ospf o is is stabiliscono in maniera dinamica le relazioni di peering tra gli apparati con bgp bisogna configurarle esplicitamente bgp di suo è un protocollo lento quindi le i tempi di convergenza sono 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 abbastanza elevati in più richiede un un'allocazione di una tra virgolette elevata numerosità di di autonomo system perché autonomo system number perché praticamente ogni apparato avrà un un proprio as autonomo system quindi questo potrebbe non essere un problema però di fatto quello vedremo durante la sessione di troubleshooting è un complica leggermente la troubleshooting sulla rete ecco questo avere un data center che è identificato non come un unico as ma con tanti as poi può complicare un po la troubleshooting infine c'è un la modalità quella che viene definita mixed igp più bgp allora secondo me questa è la modalità che racchiude i vantaggi dell'una e i vantaggi dell'altra e minimizza gli svantaggi allora mixed igp più bgp significa che noi potremmo utilizzare un protocollo igp che potrebbe essere is is oppure spf come dicevamo prima ma solo ed esclusivamente limitato alla annuncio delle informazioni di routing di lubec degli apparati del data center e delle punto punto ok quindi restringendo il dominio lo si stabilizza perché una perturbazione su un dominio in di rete in cui girano solo le punto punto di backbone e le lubec la sia solo se si rompe un apparato così spezza un link così si guasta un link non è più come il caso precedente dove quando viene creato un nuovo servizio che aveva creato la nuova vlan l'annuncio di questa nuova vlan perturba il dominio igp la aver adottato un protocollo igp continua garantì garantisce il discorso dell'impegno equal cost dei link l'igp comunque garantisce una convergenza più rapida in caso di guasto per esempio dei link o di disponibilità di un apparato una rete con un mix di igp bgp e scala perché scala bgp fondamentalmente se noi bgp lo usiamo per l'annuncio delle reti dei servizi a quel punto possiamo dire che in questa maniera siamo in grado di gestire un data center con un elevato numero di servizi applicative quindi di vlan ok parliamo di vlan e il bgp abbiamo detto prima è necessario sia per la interconnessione con con la rete geografica sia per la questa in questa specifica non l'ho scritto ma la per poter implementare quelli che sono i servizi i vp ok per contro però una rete mix di gp bgp ha un richiede un due protocolli quindi la gestione di due protocolli di rete c'è un quindi la configurazione di un igp più di un più un bgp quindi dobbiamo configurare sia la parte a yes a yes per esempio più la parte bgp e e quindi come dicevamo prima in relazione del fatto che bgp non stabilisce la in maniera automatica le relazioni di peering con con i suoi con con gli altri bgp speaker e in questo caso dobbiamo metterci a mano e configurare tutte le le sessioni bgp tra 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 i nodi del data center certo possiamo ridurre in un certo senso la l'entità di queste sessioni se adottiamo per esempio una una architettura bgp con con i root reflector quindi in questo caso non è più necessario configurare la magliatura completa n per n meno uno mezzi di sessioni bgp tra tutti gli apparati ma basta leggere due root reflector e e stabilire le sessioni solo con con i root reflector quindi si riduce tremendamente il numero delle sessioni bgp che bisogna configurare manualmente nel data center di roma 1 di roma 2 data center infra di car e a breve nei data center che stiamo mettendo in piedi quindi a frascati a bologna ea bari noi abbiamo optato per la scelta mix e di gp più bgp che il nostro data center come fatto a un unico dominio igp esteso tra spine e l'if per come protocollo igp abbiamo adottato is is in relazione a quello che è la il posizionamento topologico del dello spine lo spine è stato eletto a bgp root reflector in maniera tale che ogni leaf da ogni leaf è configurata sono configurate solo ed esclusivamente due sessioni bgp una verso il primo spine e una verso il secondo spine quindi non più la totalità di sessioni bgp tutti con tutti ok sulla border leaf la border leaf è l'apparato che ha su cui sono configurate le sessioni i bgp verso l'interno e la sessione e bgp verso la s 136 di garra attraverso la quale quindi annunciamo alla rete tutte le gli indirizzi i prefissi pubblici della dei servizi che sono ospitati all'interno all'interno del data center allora forse sono andati un po troppo veloci non lo so comunque oggi fondamentalmente con oggi abbiamo finito la settimana venerdì con la prossima sessione parleremo di evi e vpn vix lan questi due nuovi protocolli che vengono implementati sulle reti di fabric e poi parleremo del del modello di security della componente applicativa ok e niente per quanto riguarda la le domande a questo punto abbiamo un po più di tempo per 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 poterle fare e quindi direi ai colleghi se ce ne sono di di procedere ecco eccoci buongiorno a tutti intanto mi presento grazie Giancarlo per la per la tua presentazione io sono andrea corletto dell'ufficio formazione gare e supporto Giancarlo nella sessione diciamo di q&a allora la prima domanda la registrazione webinar immagino chiedano se immagino chiedano se la disposizione la registrazione del webinar sarà disponibile e sì lo stiamo facendo per tutti i moduli di questo corso apm diciamo dopo la diretta streaming mettiamo a disposizione la registrazione del webinar sulla pagina del corso all'interno della nostra piattaforma learning gar l'indirizzo è learning.gar.it all'interno di ogni corso quindi di ogni modulo trovate la registrazione del webinar e le slide che sono state presentate dal docente del modulo in quell'occasione quindi si la troverete diciamo nel giro di 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 una giornata o di poche ore alla fine di di questa sessione quindi learning.gar.it se siete già iscritti al corso è la stessa pagina sulla quale vi siete iscritti altrimenti e vi iscrivete al corso e avrete accesso alla registrazione seconda domanda questa Giancarlo per te le topologie di data center mostrate nella presentazione sono sempre applicabili a prescindere dalle dimensioni del data center? sì allora come dicevamo prima la l'unica la allora sì la risposta è sì allora le le topologie data center le topologie close sono sempre applicabili in qualunque di scenario la come dicevamo prima se vi ricordate la questione è questa al crescere del data center cresce l'impegno delle porte per esempio sugli spine quindi se ricordiamo guardiamo un attimo trovo la slide Andrea si vede sempre sì sì adesso se in condivisione con le slide vai vai ok se guardiamo per esempio questa questa topologie sono in editing però Giancarlo magari metterà in presentazione un attimo così vediamo meglio ok perfetto e la al crescere del data center io devo devo la cosa che devo andare a dimensionare è il la la dotazione di porte dello spine per esempio su uno spine tipico che c'ha 32 porte a 100 giga io posso mettere 32 collegamenti 32 collegamenti significa 16 rec se il mio data center cresce non cambio la topologia la uso una topologia con più livelli però comunque sia è sempre una topologia close quello sì ok perfetto allora torno alle domande quindi questa l'abbiamo risposta alla prossima is is versus ospf allora noi abbiamo utilizzato a non per perché fondamentalmente c'è qualche funzionalità in più rispetto a ospf allora la la scelta del del igp di base è legata a quello che è il feeling del del progettista nei confronti di eh del protocollo igp legata a a quanto uno è confidente nell'utilizzo di quel protocollo e nell'utilizzo e nel troubleshooting che si fa con quel protocollo quindi a essendo ad a questo livello due protocolli del tutto equivalenti li non c'è un motivo per scegliere uno piuttosto che l'altro e la scelta di is is rispetto a uspf se vogliamo la possiamo fare in sulla base di un'altra di un'altra di un altro aspetto normalmente quando si tratta di sviluppare nuove funzionalità di un protocollo quello che abbiamo visto che normalmente queste nuove funzionalità vengono prima implementate in is is dopodiché vengono implementate in in ospf ok però si parla di funzionalità che normalmente in un data center non si non si usano per esempio le funzionalità di traffic engineering sì diciamo possiamo per esempio cominciare a pensare di ingegnerizzare i flussi di traffico all'interno di un data center però la normalmente non l'ho visto fare perché perché già di suo il data center è fatto la topologia cross è fatta in maniera tale da poter utilizzare al meglio tutta la capacità dei link in maniera proporzionale a cioè vuoi dire bene il traffico viene ruotato in maniera equal cost su tutti i link per cui non vedo la necessità di eh e leggere dei percorsi prioritari rispetto ad altri ad ogni modo la sono due protocolli del tutto equivalenti e noi abbiamo scelto a yes a yes fondamentalmente perché stiamo mettendo a yes a yes anche sulla rete di cartì per cui è stato lasciatemi dire più più che altro una forma di palestra ecco per cominciare a familiarizzare con con questo protocollo e così senza nessun motivo tecnico particolare ecco questo intendo di se vi siete se siete confidenti con ospf usato ospf se siete confidenti con is is usata is ai fini della topologia della rete data center ip fabric sono del tutto equivalenti ok benissimo grazie Giancarlo allora ricordo che per fare le domande eh bisogna collegarsi al sito menti punto com inserire il codice quattro cinque due cinque sei nove quattro due che vedete anche peraltro scorrere in sovimpressione in basso eh nella schermata video domanda successiva eh Giancarlo nel caso di una rete esistente quando è che conviene cambiare fabric da ethernet a ip c'è un criterio una linea di demarcazione oggettiva? allora normalmente ti racconto quello che è stata la nostra esperienza gar e cambiare all'improvviso una rete da ip fabric a ethernet fabric è un'azione molto importante nel senso che non 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 c'è disturbi il data center questo è la la quello che è la nostra la nostra esperienza e in genere però quello che si fa è che si affianca a alla rete vecchia la rete nuova perché cambiare una fabric da una ethernet fabric a un ip fabric significa cambiare proprio gli apparati quindi normalmente quello che si fa è quello che abbiamo fatto anche noi per esempio è costruire la rete parallela ip fabric e mettere in comunicazione il vecchio dominio con il nuovo dominio e cominciare a mano a mano a spostare i servizi dalla rete ethernet fabric alla rete ip fabric ok grazie Giancarlo alla prossima eccola un border leaf può avere anche funzione di firewall? sì sì nella prossima sezione nella prossima sessione scusate vi mostrerò brevemente come abbiamo fatto noi il nostro data center la border leaf si è in mancanza di firewall è il nodo che deve supportare funzionalità di firewalling perché è il nodo attraverso il quale il traffico entra nel data center quindi onde evitare di far arrivare traffico indesiderato fino ai servizi quindi fino alle leaf normalmente quello che si fa è di stabilire delle policy di firewalling a livello di border leaf ok benissimo la prossima grazie allora rapporto over subscription slide 23 qui hanno seguito il tuo consiglio di indicare la slide se sbaglio questo rapporto compromette funzionalità data center in ogni caso o si può risolvere in altro modo? ti metto le slide così andiamo alla 23 ok eccole allora sì in un certo senso sì nel senso che noi immaginiamo per esempio di utilizzare per le come come leaf di terminazione dei dei nodi di storage un apparato che ha un rapporto di over subscription elevato questo vuol dire che quando faccio un esempio c'è un parte un processo di sincronizzazione di dei volumi di storage tra un un rec e un altro ok può capitare che nel se questi apparati non hanno un rapporto di over subscription corretto quindi uno a uno ci ci siano del dei perdite di pacchetti e quindi delle riduzioni di prestazioni ehm dovuto appunto al fatto che la 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 rete non ce la fa a sopportare quello che la la richiesta di banda da parte di degli storage ora questo è un esempio però sì la risposta è sì può può compromettere quello che sono le le funzionalità della rete infatti con storage e con border leaf normalmente si ha si utilizza un rapporto di over subscription uno a uno proprio per questo motivo per non impattare le funzionalità di scrittura sul sullo storage e le funzionalità di accesso all'esterno poi normalmente la i rapporti di over subscription di altri altre tipologie di leaf si dimensionano non una uno ma uno a un numero più grosso perché perché normalmente quello che succede che si attacca un server che ha due porta 25 giga e non mi aspetto che quel server faccia costantemente 50 giga di traffico ecco questo per cui alla fine sarà difficile che la ci sia un un collo di bottiglia su un apparato che ha un rapporto di over subscription diverso da da uno a uno perfetto allora torniamo alle domande complimenti per le slide mi associo complimenti molto chiare ed esplicative le renderete disponibili qua anche questa posso rispondere io credo di averlo fatto già nella domanda precedente comunque sì le renderemo disponibili sempre sulla pagina del corso all'interno della piattaforma learning.gar.it quindi se non l'avete già fatto vi raccomando di iscrivervi al corso e lì troverete come dicevamo prima sia la registrazione di questo webinar e del prossimo modulo così come le registrazioni di tutti i moduli del del corso a pm finora svolte e quindi le registrazioni e le slide su learning.gar.it allora sarebbe possibile fornire la possibilità di poter scaricare le registrazioni? No le potete consultare all'interno della piattaforma come mai questa per te Giancarlo avete scelto AIS AIS come IGP e non il più diffuso OSPF? è un po' quello che ho detto prima nella domanda che hanno fatto poc'anzi cioè non c'è un vero motivo tecnico che ci ha spinto a utilizzare AIS AIS rispetto a OSPF sono equivalenti da un punto di vista della delle funzionalità sono sono del tutto equivalenti probabilmente AIS AIS è un po' più complicato configurare ma perché AIS AIS utilizza gli indirizzi ISO che sono delle stringhe lunghe così tipo indirizzi pv6 ma a parte questo il motivo perché ho scelto AIS AIS nella nella rete del data center te lo dico onestamente per imparare a usarlo per imparare a usarlo perché sulla rete carticcia avremo AIS AIS anziché OSPF bene grazie alla prossima eh l'inserimento di un nuovo livello riduce la banda? eh no semmai l'aumenta ok no aspetta 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 ho capito male la domanda l'inserimento di un nuovo livello riduce la banda in allora no di fatto no perché i livelli eh allora ripiglio la slide eh sì vai te la condivido eh aspetta dove stava? no stava qua qua allora no di fatto no perché quando noi eh andremo a a inserire questo livello super spine il livello super spine fondamentalmente serve per mettere in comunicazione data center di un certo di una certa entità per esempio noi possiamo avere il data center nel palazzo 1 il data center nel palazzo 2 e li mettiamo in comunicazione attraverso questo super spine ma di fatto la banda non cambia la banda cambia nel momento in cui o agiamo sui link di collegamento oppure agiamo sul numero di di router spine che che introduciamo all'interno del nostro data center ok come dicevamo prima eh qua per esempio vediamo se c'è un'altra slide qua ok per poter aumentare la banda di di un data center o agiamo sul numero dei link quindi aumentiamo il numero dei link oppure agiamo sul numero di spine quindi aumentiamo il numero di spine se sopra questo 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 disegno topologico ne mettiamo un altro di fatto non cambiamo nulla mettiamo semplicemente in comunicazione il data center A con il data center B ma non aumentiamo la banda dei complessiva del data center ecco questo intendo dire ok grazie torniamo alle domande penso sia più o meno come quella precedente comunque te la leggo l'inserimento di un livello ulteriore nella Ethernet Fabric riduce la banda? no non l'aumenta e non la riduce ok allora abbastanza lunga come facciamo a stabilire quale rapporto OS è accettabile? nella slide di esempio si è detto che per RAC CPU un buon rapporto è 1 a 3 a differenza di storage e border dove è 1 a 1 come si stabilisce? sono in genere dei criteri di progetto allora normalmente quando si va a fare un dimensionamento di una rete di data center ci sono dei dei parametri di riferimento che vengono che vengono utilizzati a livello per il dimensionamento della della del rapporto di oversubscription tipicamente ma non è detto che debba essere sempre fatto così la 1 a 1 è per storage è per per border leaf 1 a 6 dovrebbe essere per le le applicazioni e 1 1 a 3 per l'i throughput bene ok andiamo avanti perdonami concludo una cosa ad ogni modo il dimensionamento degli apparati e quindi la il rapporto di oversubscription dipende sempre dalla tipologia delle applicazioni che poi utilizzano la rete questo ok allora questa secca ipv6 anche cioè si c'è come ti dicevamo come dicevo prima in questa slide aspetta te la rimetto vado qua quando andremo a a capire a a stabilire dove mettere il livello ip della dell'applicazione normalmente quello che si fa è per esempio ti dico quello che abbiamo fatto nel data center nostro nel data center nostro tutti i servizi che sono esposti in ipv4 in ipv6 sono terminati su un interface vlan dove c'è sia l'indirizzo ipv4 sia l'indirizzo ipv6 ok torniamo alle domande riguardo la slide confronto terminazione a livello ipv in caso di accesso frequente tra lift cpu e lift storage quale ipotesi utilizzare hai bisogno della slide è questa qua allora normalmente in questi casi è comunque traffico che viene impegna la fabric per cui da mio punto di vista la soluzione che io caldeggio è questa qua di terminare i livelli ip sulle lift direttamente in maniera che il traffico locale rimane qua il traffico tra vlan che stanno su lift diverse e quindi per esempio una macchina virtuale che deve accedere allo storage in ice case per esempio è comunque preferibile una soluzione in cui la terminazione del livello ip sia sulla lift proprio per evitare di trasportare in ogni caso il traffico su un apparatore moto e poi ritornare indietro nel caso di accesso frequente cpu storage come era l'oggetto della domanda in questo caso una soluzione l'ipotesi 2 porterebbe ad avere un'enorme quantità di traffico tra border lift dalla lift border lift ritorna qua che risponde che ritorna indietro quindi comunque c'è un impegno oltremodo dei link della della fabbrica ecco in questo caso secondo me la soluzione migliore è quella di terminare i servizi sulle lift direttamente benissimo allora torniamo ancora alle domande andiamo avanti per la sessione di venerdì utilizziamo la stessa registrazione all'evento gli stessi link al webinar di questo allora per l'iscrizione rimane sicuramente la stessa per la diretta streaming vi faremo sapere adesso valutiamo se utilizzare lo stesso link o meno comunque ve lo comunichiamo come abbiamo già fatto per questa diretta attraverso il forum news della del corso e sulla home page stessa del corso allora in un'architettura CLOS con l'adozione dell'iperconvergenza con nodi che hanno sia CPU che storage cambia qualcosa rispetto al rapporto dell'OS consigliato? allora questo diciamo che sarà argomento della prossima sessione quando andremo a valutare eventuali semplificazioni di una di una rete fatta in questa maniera allora sì tipicamente quando poi tu utilizzi un singolo apparato per sia per aggregare i server che per aggregare gli storage e chiaramente in quel caso il rapporto di oversubscription che uno dovrebbe definire implementare è più un rapporto di OS che è più vantaggioso per la parte storage piuttosto che per la parte CPU quindi praticamente quello che suggerirei di fare è che le leaf le dobbiamo dotare di un uplink abbastanza capaci ecco questo perché poi tra l'altro il traffico è cioè il rapporto di oversubscription influisce in un certo senso sul traffico che impegna l'uplink ma se noi abbiamo server e storage che collassano sullo stesso apparato a quel punto la limitazione ai flussi di traffico tra applicazioni e storage è locale alla macchina quindi la cosa che dovremmo andare a valutare le prestazioni della macchina quindi la matrice di switching della macchina va bene allora alla prossima domanda grazie architetture ethernet fabric basate su ml ag possono essere considerate valide alternative ad architetture ip fabric ok allora ml ag sta per multi chassis lag ok è la no allora multi chassis lag fondamentalmente è una funzione una funzionalità di livello 2 che consente a un server di configurare i due collegamenti ethernet verso le due leaf in un unico bundle e vedere l'apparato di terminazione come se fosse un unico apparato anziché due ok non è comunque rimangono tutte le problematiche legate alla cosa alla ethernet fabric perché comunque in ogni caso occorre la presenza l'implementazione di spanning tree con tutti gli svantaggi che abbiamo detto prima quindi link non utilizzati perché messi in blocking e quindi capacità totale ridotta ok prossima domanda l'estensione della topologia del data center e del routing si estende fino alla zona degli utenti o si crea un punto in cui c'è ancora un passaggio livello 3 routing verso utenti su rete l2 cerco di interpretare la domanda allora quello che normalmente si fa in un data center è il quindi noi colleghiamo i server direttamente sulla sulle due lif e definiamo all'interno del sistema di virtualizzazione la l'avm quindi il livello 2 è limitato semplicemente al collegamento tra il sistema di virtualizzazione e l'if su cui questo è collegato ok a partire dalla lif in poi in un architettura epfabric non possiamo più parlare di dominio di livello 2 ma dobbiamo parlare di dominio di livello 3 quindi se ben interpretato la domanda di chi l'ha fatta la frame ethernet vive tra il server e la leaf perché poi nel momento in cui entra in la leaf viene incapsulata in un pacchetto ip e la c'è la terminazione dell'evello ep quindi il default gateway grazie questa è la domanda che mi hanno fatto semmai chiediamo di specificare meglio sempre inserendo commenti su menti scusate la rima allora andiamo avanti con la prossima salve grazie per il corso e per la sua chiarezza purtroppo venerdì sarò impegnato in un convegno istituzionale vedrò la registrazione eh sì abbiamo già detto della registrazione e invece l'altra parte potrò godere dell'attestato anche non seguendo la diretta sì l'attestato resta comunque scaricabile basta poi aver visto la registrazione quindi sì ad entrambe le domande questa l'abbiamo già risposta vediamo se l'abbiamo terminata e se ci sono altre domande allora eh le abbiamo al momento abbiamo terminato tutte le sì sono finiti Andrea conferma benissimo grazie Eleonora che ringrazio per averci eh presentato tutte le domande che i colleghi che stanno seguendo questa diretta hanno fatto attraverso menti.com vi ricordiamo l'appuntamento con con il corso APM con questo modulo in particolare con Giancarlo quindi di venerdì questo venerdì 13 maggio sempre allo stesso orario ore 10 e 30 e vi ringraziamo ancora per per averci seguito ringrazio Giancarlo per la per la disponibilità ringrazio le colleghe dell'ufficio formazione eh Gabriella Paolini e Deleonora Napolitano che con me hanno contribuito a questa diretta streaming e vi salutiamo e ci vediamo venerdì alle 10 e 30 buona giornata a tutti benissimo a venerdì ciao ciao Grazie.